Allora, Vinitaly, siamo arrivati alla conclusione, ultima giornata, quindi tempo di bilanci, tempo di bilanci per il vino Ligure, per lo stand Ligure, tempo di bilanci che viene tracciato dall'enoteca regionale. Mi pare giudicare dal fermento che non possa che essere positivo. Sì, è positivo, è positivo trovare nuovamente riscontro dell'interesse verso le produzioni della nostra regione. Anche quest'anno abbiamo una bella rappresentanza perché abbiamo ben 73 aziende presentate all'interno del nostro stand con più di 140 etichette, 20 aziende hanno un loro spazio, ci hanno seguito in questa avventura anche per quest'anno. Per cui diciamo che abbiamo portato tutta la Liguria, siamo orgogliosi di farlo, di continuare a farlo. Ci mettiamo molta passione, come ci mettono passione i nostri produttori nel produrre questi vini che sono sempre più buoni e che in cui si sente sempre maggiormente si ritrova il nostro territorio. I manifestazioni come queste sono importanti anche i numeri, tante degustazioni, quindi anche tanto apprezzamento. Sì, abbiamo lavorato, siamo soddisfatti, siamo arrivati più o meno quasi a 20.000 degustazioni nei quattro giorni. Dobbiamo ancora chiudere, è un dato ancora parziale perché c'è ancora la giornata di oggi che deve concludersi, però abbiamo lavorato. Come sempre le giornate di più affluenza sono il lunedì, il martedì, però diciamo che siamo contenti del lavoro svolto anche per quest'anno. Si sente, si respira questa soddisfazione. Abbiamo parlato quindi di degustazione, abbiamo parlato di numeri, poi è sempre occorre rimarcare quando si parla di Liguria, occorre parlare soprattutto di qualità. Senz'altro i nostri vini sono cresciuti tanto di qualità e questo si riscontra appunto anche nei numeri delle persone che ci vengono a trovare, che chiedono di assaggiare, di conoscere il nostro territorio. Perché quello che viene fatto nel nostro stand non è soltanto per stare da bere, è proprio spiegare dove siamo, come è fatta la Liguria, quanto sia bella la Liguria e anche invogliare un po' le persone poi a venirci a trovare. E questo poi è l'invito che rivolga a tutti, quello di venirci a trovare. E questo è assolutamente importante. Un'ultima domanda, voi siete qui a stretto contatto di gomito, non separati dal Piemonte, con la Val d'Aosta. Avete attuato alcune importanti iniziative? Sì, sono già diversi anni che collaboriamo, visto questa vicinanza con la Val d'Aosta, che collaboriamo insieme per presentare assieme anche i territori con cui abbiamo tante somiglianze, tante affinità. Abbiamo le pendenze, abbiamo i vitigni autortoni, abbiamo le quantità limitate di produzione, abbiamo la passione dei viticoltori, abbiamo l'eccellenza dei nostri prodotti. Per cui anche quest'anno abbiamo riproposto delle degustazioni che abbiamo svolto insieme alla Val d'Aosta. Degustazioni, devo dire, simpatiche, non perché le abbiamo pensate noi. Degli abbinamenti molto particolari, no? Esatto, perché abbiamo presentato come Liguria un piatto preparato da uno chef del circuito di Liguria Gourmet, il Cunigiu Magro, che è la risposta di terra al Capon Magro, abbinandolo con due vini Liguri e due vini valdostani. Facendo scegliere al pubblico quale, secondo loro, era l'abbinamento perfetto. E poi dopo abbiamo presentato, sono state presentate le DOP della Val d'Aosta, a livello di prodotti agroalimentari, per cui la Fontina e il prosciutto di Bossa, abbinando vini Liguri. Per cui sono state molto simpatiche e molto gradite dal pubblico che ha partecipato. Sono piaciute tutte, insomma. Io la ringrazio per il suo intervento da qui, da Vinitaly, con il vino della Liguria.